Buonasera, buonasera a tutti. Allora, andiamo sul discorso Superbonus, ma come sempre andiamo prima a vedere i siti, cosa ci propongono. Sì, è Superbonus il tema di giornata, vediamo se però il collegamento è partito. Ah sì, ok, Superbonus, Forza Italia, subito modifiche, non si arrivi al voto di fiducia. Io penso che sul discorso del Superbonus il governo stia sbagliando. Devo dire anche che l'intervista, la dichiarazione di Lollobrigida, del ministro dell'Agricoltura e dell'Identità agroalimentare, il governo ha rimediato ad una situazione pericolosa, anche Draghi aveva espresso le proprie perplessità. Allora, questa è la stessa posizione, devo dire, di Giorgetti. Voglio ricordare che però in campagna elettorale non avevano mai parlato di uno stop così brusco e così repentino. Allora, voglio dire immediatamente che questo stop secondo me è sbagliato. Intanto il governo in una fase di ripartenza, in una fase in cui bisognerebbe dare una spinta, dimostra di ragionare esattamente come si ragiona a Bruxelles, cioè guardano un po' al mero pallottoliere, guardano all'equilibrio contabile e non capiscono che invece il superbonus stava assolvendo, al netto delle furbate di cui parlerò dopo, stava assolvendo ad un discorso importante, cioè di crescita dell'economia reale. Cosa fa il governo? Ascolta il sistema bancario. Un sistema bancario che ha il cassetto fiscale pieno dell'eccezione del credito e adesso non sa come fare per uscirne perché ovviamente poi il sistema bancario europeo è pronto a fare le pulce. Allora, io rimango lì, cioè continuo a dire stiamo attenti a soffocare l'economia reale. L'edilizia è importante, l'edilizia è uno di quei pistoni dell'economia reale perché se si muove il comparto edile tutto un aggregato, tutta una combinazione di conseguenza si muove. Quindi non devi guardare soltanto a ciò di cui ha parlato Giorgetti, cioè bisognava fermare una situazione quasi fuori controllo con gravi conseguenze sul debito pubblico. Se siamo sempre lì sul discorso del debito pubblico, quando fino a pochi mesi fa, in tempo di pandemia, ci avevate detto tutti che la BCE copriva le spalle come stanno facendo tutte le banche centrali nel mondo. Quindi l'inflazione di oggi è figlia dell'eccesso di liquidità che le banche centrali avevano messo in moto. Giustamente perché se non lo fa la banca centrale, poi però deve essere in grado di governare quella liquidità e quindi governare l'inflazione. Cosa fa invece la banca centrale? Se ne lava le mani soprattutto la BCE. Ma attenzione, durante il tempo di pandemia il governo aveva anche, su invito della Commissione europea, aveva sospeso il patto di stabilità perché l'Europa diceva potete sospendere il patto di stabilità. Quindi insomma, a debito si era rimesso tutto in moto. Quindi ora non mi potete dire che il problema è il debito. E a chi dice sì ma c'erano i furbetti e il costo dell'opera era lievitato, è vero. Allora bisogna sicuramente stoppare i furbetti. Però se il governo mi viene a dire che non è in grado di governare questa situazione e ha paura dell'aumento spropositato dei prezzi e quindi dei furbetti, vi dico signori state attenti però a fare questi discorsi perché il ponte Morandi a Genova, il rifacimento del ponte Morandi è costato quattro volte rispetto alla previsione di spesa iniziale. Quindi ve lo dico ed è anche sbagliato il ragionamento che fa Giorgetti e cioè trasferire sul cittadino la quantificazione dell'operazione Superbonus. L'operazione Superbonus era un'operazione e secondo me è ancora un'operazione di grande stimolo macroeconomico. Si tenga conto che tu oltre al tema della copertura a debito pubblico tu devi guardare anche ciò che riguarda lo stimolo macroeconomico, quindi le imprese che lavorano. Se lavorano le imprese i lavoratori non vengono lasciati a casa ma forse hanno addirittura bisogno di ulteriore manodopera, magari una manodopera italiana in modo che la finiamo di fare anche un po' i lavativi rispetto a un nobilissimo mestiere qual è quello che sta nel comparto dell'edilizia. Il discorso delle materie prime è un discorso che al netto degli aumenti che potevano e dovevano essere controllati altrimenti la grande elezione dell'euro al cambio euro-lira non c'è servita a nulla. Io penso che il Superbonus e il meccanismo di cessione del credito stava comunque generando qualcosa di virtuoso. Ha impedito il licenziamento di molti lavoratori e soprattutto sta mantenendo in vita un insieme importante di imprese. Ora, fermare come hanno fermato il meccanismo della cessione del credito vuol dire che tu di fronte ad un camion che sta andando a grande velocità e che ha un carico, tu blocchi questo camion che sta andando a velocità sostenuta e si ribalta tutto. Qual è il carico che portava il camion? 15 miliardi di crediti fermi. Quindi vuol dire che se il camion, cioè se la cessione del credito dell'edilizia cresce perché lo hai fermato all'improvviso, il carico che ha dietro, 15 miliardi di crediti fermi, si rovescia tutto sul paese reale. Quindi vuol dire che il governo deve essere pronto a sostenere il casino. Quindi io penso che andare a ragionare esattamente come ragionava Draghi e andare a ragionare esattamente come vuole l'Europa e cioè che gli stati non sono più protagonisti anche attraverso la leva del debito pubblico, della crescita, e beh ragazzi siamo sempre lì, che tu ti chiami Letta, che ti chiami governo Meloni, se la logica è la stessa, ragazzi così non cresciamo. Io penso che ci sia un problema di crescita. Quindi siccome i cittadini elettori alle scorse politiche hanno bocciato i partiti che avevano sostenuto Draghi e hanno premiato la Meloni che comunque era era all'opposizione, perché non posso non ricordare che moltissime delle votazioni all'opposizione le abbiamo fatte insieme. Occhio, vi dico state attenti per piacere a continuare a pensare che il draghismo e la predicazione di Draghi sia un'operazione virtuosa. Quindi io sarei attento perché altrimenti poi va tutto un po' gambe all'aria. Oggi, 17 febbraio, vale la pena anche ricordare quello che è un esempio di coerenza, di ostinata coerenza a non rinnegare, a non abbiurare le proprie tesi, e cioè Giordano Bruno che fu bruciato vivo proprio per questo a Roma, a Piazza Campo dei Fiori. Quindi siccome cadeva, cade nel 17 febbraio, penso che sia giusto ricordare anche questa figura. Soprattutto, soprattutto in tempi in cui qualcuno dice delle cose in campagna elettorale e poi se ne dimentica. Buona serata a tutti.